L'Inter pareggia 1-1 contro lo Slavia Praga nel primo match di Champions League. Questo è il commento del tecnico nerazzurro Antonio Conte. Sicuramente dobbiamo essere delusi, delusi perché non è stata una buona partita. È stata una brutta prestazione, abbiamo fatto vedere pochissimo della nostra idea di calcio per quello che noi ci alleniamo. Quindi da questo punto di vista sono deluso e mi prendo chiaramente la responsabilità. Perché non ho inciso come avrei dovuto incidere. Lo Slavia è stato più bravo in tutto, nella pressione, nell'intensità, nel gestire anche il livello di partita internazionale. Sono stati più bravi. Bisogna riconoscerlo. E noi dobbiamo prendere spunto da questo, proprio per capire che abbiamo tantissima strada da percorrere. Importante successo del Napoli che batte 2-0 in Champions League e Liverpool. Questo è il commento del tecnico della squadra azzurra Carlo Ancelotti. Io sul rigore non l'ho rivisto, non ho idea di quello che è successo. Dalla panchina mi sembrava abbastanza chiaro, però non voglio discutere su questo. Se lui dice che noi possiamo vincere la competizione, lo ringrazio molto. Perché, diciamo, lo dice un allenatore che conosce molto bene il calcio. Ma, insomma, la strada è molto lunga. Come ho detto, adesso dobbiamo pensare a passare il turno, che quello è già il primo obiettivo. Siamo indirizzati bene, perché l'anno scorso, la prima partita, abbiamo fatto 0-0. Adesso, insomma, siamo partiti con una vittoria e questo è positivo. Jürgen Klopp, tecnico del Liverpool, commenta in conferenza stampa la sconfitta subita contro il Napoli. Sicuramente abbiamo giocato molto meglio rispetto alla partita dell'anno scorso, dove abbiamo perso 1-0. Penso che abbiamo avuto diversi momenti positivi durante la partita. Abbiamo controllato la partita anche per lunghi tratti. Abbiamo fatto delle ottime intercettazioni e abbiamo fatto anche diversi contropiedi. Credo che le due squadre abbiano dimostrato tanto rispetto nei propri confronti. Tutte le due squadre hanno giocato in modo molto compatto, hanno difeso molto bene. Bisogna giocare proprio così quando si incontra una squadra forte come il Napoli. In Champions League la Juventus questa sera affronterà l'Atletico Madrid. Queste le parole alla vigilia del tecnico bianconero Maurizio Sarri. Perché noi sinceramente non lo sentiamo. Siamo la Juventus. Ogni volta andiamo in campo per una manifestazione l'obiettivo è vincere. Però sappiamo benissimo che poi ci sono delle manifestazioni in cui l'obiettivo è vincere. Vale per 10-12 squadre che sono attrezzate come noi. Sono forti come noi sotto tutti i punti di vista. Io penso che dobbiamo affrontare queste partite con un livello di determinazione eccezionale ma anche con un livello di leggerezza perché bisogna tornare anche a divertirsi in campo senza essere assillati da una fobia che non è logica e quindi non ci deve interessare più di tanto. sempre con la premessa che l'obiettivo quando si va in campo per una manifestazione deve essere quello di provare a vincere.